Intro Enjoy signori Randochi con voi E quest'oggi ci troviamo qui su Blockade Ragazzi questo è un giochino Questo ragazzi è un gioco gratuito che trovate su Steam Si tratta di 80 Mega quindi cosa volete metterci? 5 minuti ma neanche Anche se avete la connessione che gira grazie a un topolino Che gira dentro una ruota, dentro una gabbia Ma andate tranquilli che lo potrete scaricare in meno di 5 minuti Il gioco è free, come vi ho già detto gratuito Lascerò il link in descrizione del download Basta che avete Steam e potete tranquillamente giocarci Molto probabilmente lo sapete meglio di me Potete giocare, ci sono delle varie modalità Ma io quella che voglio andare a fare è Battle Io metto Filtro Europa perché i server sono un po' diciamo meglio E vado a prendere primo con 28 persone Andiamo a farci una partitina veloce Ragazzi questa non è una serie, non è niente Solo che avevo voglia di fare un video su questo giochino Perché è veramente spettacolare Facciamo auto che mi seleziona automaticamente Con che squadra? Come vedete ragazzi noi siamo i rossi E dobbiamo andare a ammazzare tutti gli altri Come guardate ci sono il blue team, red team, grid team e yellow team Eccolo là, barbastardo, già mi stava tirando Quello rosso, vediamo quello se è morto se non lo secco io Vedete ho già 8 di HP Guardate in basso, al centro Però noi abbiamo il medikit Ci quariamo E ritorniamo Come vedete abbiamo l'ascia Abbiamo la possibilità di mettere giù i blocchi stile Minecraft È tipo block store ragazzi Non so se lo conoscete Però gratuito Per farvi capire Quindi è una cosa molto molto figa Ci possiamo fare una casa Camperarci dentro Tipo per esempio Fare una roba del genere Non così Andiamo dentro Ci togliamo questo E possiamo tranquillamente usare la copertura Ci possiamo abbassare Ci mettiamo l'arma E spacchiamo i culi A tutti Ora Come vedete Dovemo andare a massacrare tutti È una specie di FPS a Minecraft Guardalo Uuuuh Porca troia Headshot bitch L'ho fatto l'headshot Non l'ho visto Guardalo Ecco Lo sapevo ma ha fatto Poi ci sono quelli che anche qui Se non ho capito male Shoppano come dei pazzi Infatti qua perché spono dentro qua E non riesco a uscire Guardateli Guardateli che mi ha tirato la granata Ma gliela tiriamo anche noi ragazzi Guardalo Come ha fatto a morire Ah si l'ho ucciso ragazzi Con una granata Ce l'ho fatta E quindi è un giochino troppo divertente Veramente io mi sono divertito un mondo Se volete altri episodi ragazzi Ditemelo qua sotto nei commenti Mettete un pollice in su Se mi piace Tanto era solo per divertirci ragazzi Ma adesso ho voglia Ho voglia di spaccare il culo a qualcuno Dai Che non li vedo Sto andando nello spawn dei blu ragazzi Vedete la X in alto Eccolo lì Uh Forse era FK ragazzi Perché l'ho killato questo Qua siamo nello spawn dei blu E questo non mi attaccava E non so perché Madonna mia Che combo Ragazzi attenzione Cosa siamo 6 a 3 Attenzione C'è gente già che sta giocando tanto Ci sono varie modalità ragazzi Ci sono pure modalità con i car armati Io vi veramente vi dico ragazzi Questo video Veramente Guardate che è veramente Veramente divertente I tasti sono semplici Il gioco è gratuito È semplice usare Solo per divertimento Ovviamente Non è che potete pretendere Un FPS Pauroso Alla CSGO Però È davvero divertente A cubi ragazzi Ci divertiamo Andate in giro per la mappa E usate le skill come jumpshot O cose varie Guardatelo E allora E allora È un valido Una valida alternativa A un FPS Tipo a cubi Stile Minecraft Con Gratuito però Perché Ok Che è che è che è Non l'ho visto Non lo vedo Ecco Quando muoio Così che non vedo chi è Ma sapete come mi fa incazzare Mamma mia che nervoso Poi c'è la Raga C'è la modalità Anche che si può giocare Solo con armi corpo a corpo Questo vi fa capire Mamma mia Che casino Se volete Vedere altri video Ragazzi giusto così Per scazzo Per divertimento Fatemelo sapere Qua sotto nei commenti Che magari proviamo Un'altra modalità Divertente E cose varie Là c'è un giallo Là c'è un altro giallo Che arriremo brutalmente E allora Madonna Eh perché Devo prendermi il vizio Di recuperare la vita Appena ammazza qualcuno Ti sciottano Gli stunt Guardalo E allora Vedete tipo in questo caso Noi recuperiamo la vita E possiamo proseguire Vedete questi Hanno anche l'elmetto Se noi li facciamo edge Oh Vedete io non li vedo Facciamo così Andiamo sotto Andiamo sotto Ma quanto è stato veloce Ah e vedi Dovevo recuperare la vita Ragazzi Se volete qualche altro Episodio Magari con qualcun altro Che ne so Dei GG Qualcuno Ditemelo Ditemelo qua sotto Nei commenti Che proverò a rompere Le balle a tutti Per fare qualche Episodietto Che fa ridere Perché comunque È un giochino Che fa divertire A parte Quando ti tirano Una granata Guardate come Mi hanno fatto volare Perché non è morto Eh qua erano in tre Ragazzi Quello è lo spawn dei verdi Io direi di andare Nello spawn dei blu Per il momento Perché ho capito Che di qua non si passa Qua è finita Il mondo Ragazzi Non si può andare Vedete dove è verde Di qua Ovviamente non si può Oltrepassare Questo Confine Adesso andiamo di qua Ragazzi Che facciamo una strage Poi abbiamo Abbiamo anche la secondaria Abbiamo anche Anzi vi dobbiamo far vedere Che abbiamo anche il Lancia missili Guardatelo È un colpo eh ragazzi Però che colpo Se lo buttiamo in mezzo Dove c'è il loro spawn Che sono in tanti lì Facciamo una strage E infatti è quello Che proverò ora a fare Guardatelo Va bene Ne abbiamo ammazzato solo uno Queste cose Sono quelle che non capisco Cioè Le ho sparato 200 miliardi di colpi In faccia In tough face Con un M4 E non muore Dai Ma è impossibile Monna che nervoso Faccio ancora due minuti Di gameplay Ragazzi Se siete con degli amici Ragazzi Infidatevi C'è veramente Da divertirsi Se poi voi sparate Per esempio A un albero Niente Si rompe il tronco Semplice No di solito cade Ragazzi Lo so perché in questo caso Non è caduto Se no ci possiamo mettere L'arma che abbiamo Vedete 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 Vediamo Se cade anche questo No questo non è caduto Vediamo qua No Forse perché c'è questo Si che tiene in piedi Tutta Non lo sapevo E comunque ragazzi Se non lo avete Degli amici Giocarci insieme È davvero divertente Calcolate che è free to play E non ci vuole niente Scaricare Non è che si parla Di un giga di gioco Sono 80 mega Raga Veramente E allora E allora Li vedo Li vedo Sono tutti qua Tutti i blu Sono qua Calma Mi sento Sto shiftato Ragazzi che non mi sentono Vedete L'ho ucciso No non l'ho ucciso Perché mi ha dato Si che l'ho ucciso Però non mi ha dato il punto Perché mi ha ucciso lui a me Io Dai quasi quasi Termino qua questo video Ragazzi se vi è piaciuto Questo video Ditemelo qua sotto Nei commenti Se l'avete scaricato E vi siete divertiti O comunque lo conoscevate Fatemelo sapere Lasciatevi un pollice in su Se volete vedere magari Questo giochino Ancora una volta Sul mio canale Ma giusto così Per divertimento Con qualcun altro Magari Perché giocare insieme ad altri Probabilmente ci si diverte Anche di più Io non vi dito più Penso che per questo Headshot È tutto Enjoy ragazzi No E intanto mi sono ammazzato io Ed è morto pure lui Grazie a tutti Grazie a tutti